Dopo il primo accenno di instabilità dell'ultima settimana, inizia a scricchiolare in maniera evidente l'anticiclone africano, che ha dominato per tutto il mese di agosto, portando le temperature a ridosso dei 40 gradi e un'afa a tratti insostenibile. Da martedì sera un afflusso d'aria fredda in quota al sud e sulla nostra regione darà il via ad una settimana molto dinamica, con abbassamento delle temperature anche di 10 gradi e violenti temporali a cominciare da mercoledì su buona parte della Puglia. Saranno fenomeni irregolari, localmente di forte intensità e interesseranno le due dorsali fino al prossimo weekend, soprattutto nelle ore più calde. Prima saranno maggiormente esposti i settori interni di Murgia, Tavogliere, Gargano e zone interne del versante ionico Salentino. Poi a ridosso del weekend, maggiore coinvolgimento dei settori adriatici centrali e meridionali. Fresco, pioggia e grandine saranno protagonisti di questa parte finale di agosto, anche se per l'inizio di settembre non è escluso il ritorno a temperature prettamente estive.